pronti ricca sono il tuo agente senti c'è Johnny Depp che vuole fare una videoconferenza con te quindi trovati un potticino e cerca di dire cose intelligenti per una volta grazie ragazzi vi prego prestatemi il gabbiotto un attimo qua scamarci ma che piacere qua mi devo fare la telezoom con Johnny Depp vi prego ancora c'è problema e quindi cominciamo questa zoom call e lui dopo qualche minuto che parlavamo ci siamo presentati mi fa scusami ma che sono quelle cose che c'hai lì mi conosco gli arbre magique gli arbre magique sì perché giustamente stavo e lui ha detto e lui ha detto dove sei? e io gli ho detto e c'era qualcuno lì vicino c'era qualcuno lì vicino gli ha detto e lui è un gas station e lui è il mio manio grazie 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 grazie